M'hai sentito parlare del soggettino in un spazio temporale? Sembra importante, no? Sembra importante, no? M'hai sentito parlare del soggettino in un spazio temporale? Sembra importante, no? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, sembra così, dire di avere, trovate un apprezzo nel tempo scorso, ma la fine dei tempi, sai? Io sono l'unico che lo possa riparare! M'hai sentito parlare del soggettino in un spazio temporale? Grazie a tutti. 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 Noi non vediamo il tempo. Possiamo sentirlo. Possiamo sentirlo passare. Non lo possiamo vedere. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... 6... ...... Non produciamo più niente, non serviamo più niente, tutto automatizzato Ma che cazzo ci stiamo a fare? Ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino Però se non la compri che succede? Se non la compri che cosa sai? Ti chiedo Un palazzo, se non compri la carta iberica C'è un po' di sole, se non la compri che ci toccare in pace E' un più grande, è un po' di più grande inizia E' un po' di fine che non trמה da fine Ma che cazzo ci stiamo a fare? E' un po' di più grande La strada è una stata una cosa che poteva Sare per il telefono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.